Buon pomeriggio a tutti dallo stadio Tre Fontane in Roma, dove tra poco andrà in scena la partita di ritorno del round 2 di qualificazione al genone di Champions League tra la Roma di Alessandro Spugna e lo Sparta Praga. Ove che affronta Dedicova, mette giù il pallone, la supera con un tunnel, ancora Ove, straripante, Emeliove, il tiro, la parata! Attenzione a riballa. Il gol di Bertoldova. Sale Wenninger al centro, il pallone arriva per il colpo di testa, traversa di Paloma Nazaro. Wenninger di testa, è la rete! Il pareggio della Roma! E il gol era trettocinquesimo minuto, Wenninger! Arriva il cross, allontana Andressa. Chang rimane però in attacco, il tiro cross deviato, traversa. Ove, Ove, ancora Ove, grande numero! Il cross dentro, il tiro da parte di Serturini, poi Giacinzi ancora ribattuto. Che peccato! La velocissima Ove che può arrivare su questo pallone, lo tiene in campo, c'è Paloma Nazaro servita. Il tiro di Paloma Nazaro e la parata. Palla molto lunga, Wenninger ancora di testa, Giacinti rimette dentro, palla deviata, rimane lì la deviazione e poi il gol! E il gol del 2-1 da parte della Roma con Andressa. Paloma Nazaro, Paloma, Paloma, supera anche il portiere, messo giù, calcio di rigore. Paloma, ancora Paloma Nazaro e c'è il gol, ma poi... Serturini ancora dentro, Paloma Nazaro prova a girarsi in rovesciata, Wenninger di testa, Minami, Minami, Minami! E c'è il gol della Roma! Va veloce Ove, non si ferma Ove, 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 Ove! La gran parada di Ciladekova. Giuliano dentro, allontana, Greggi, la conclusione deviata, Ciladekova nel calcio d'angolo. Serturini, cross di Serturini, palla nell'aria piccola, poi arriva la bomba, il gol! Da parte di Eme Iove! È finita, è finita! La Roma va alla fase a gironi, meritatamente. Vinci la Roma! Grazie! 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 Grazie a tutti.